Ciao, siamo i partecipanti di un esperimento del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento. Ma non stiamo parlando di un esperimento scientifico. Durante il corso di rettorica e scrittura abbiamo cercato di rispondere a questo quesito. Rovereto, si può considerare una città universitaria? In apparenza a noi universitari non manca nulla, però... Siete curiosi di scoprire a quali risultati siamo giunti? Vi aspettiamo martedì 17 dicembre alle 13.30 nella sala multimediale della Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto. Rovereto, città universitaria? La ricerca è ancora in corso!